Buongiorno, benvenuti a questa è la segna stampa di oggi 26 febbraio. Ringrazio i tanti che come sempre il martedì vedo, hanno visto e hanno guardato Quarta Repubblica. Entriamo subito nel merito di quelli che sono i temi della giornata. In parte oggi i temi della giornata sono derivanti proprio da quello che abbiamo fatto ieri a Quarta Repubblica, perché c'è stata l'intervista al Ministro Tria che sulla Tava ha detto delle cose molto ragionevoli e ha un po' sbertucciato l'analisi costi-benefici e poi chiaramente ha detto ragazzi non si può rimettere in discussione sempre i contratti, se no che tipo di affidabilità può avere l'Italia se ogni volta i suoi contratti li rompe. Allora siccome su questo ha perfettamente ragione ovviamente Tria, ieri lo ha detto chiaramente, cioè se noi abbiamo fatto un contratto con l'Europa che dicevamo che facevamo e l'alta velocità per quale motivo oggi non la facciamo e saremmo considerati molto inaffidabili, vi faccio un paradosso di quelli che sono difficilmente comprensibili penso a tutti quanti voi. Allora siamo d'accordo con Tria, i contratti si devono rispettare, non si può pensare che uno fa un contratto e poi siccome non gli piace quella roba lì fatta dal governo precedente lo rompe e siccome tutti noi siamo d'accordo su questo qua siamo forse d'accordo anche sul fatto che non si possa rompere il contratto con Fabio Fazio e insomma io vi faccio una provocazione perché vedete Fabio Fazio oggi lo ricorda Enrico Paoli si è portato a casa un contratto pazzesco pazzesco, ve lo dico da persona che un pochino la televisione la frequenta e anche i contratti perché è un contratto in quattro anni di 70 milioni di euro, una gran parte di questi 73 milioni di euro li prende la società di produzione che fa appunto che tempo che fa in prima serata e in seconda serata, 70 milioni in quattro anni, prima questione Raiche fa un contratto in quattro anni difficilissimo, seconda questione fa un contratto a una casa di produzione per 70 milioni e chi è azionista della casa di produzione? Fazio che peraltro oltre a essere azionista della casa di produzione si prende due milioni e mezzo all'anno non entro nel merito, fa bene o fa male, ma questo contratto è stato firmato e Fazio ha già fatto due anni, ne deve fare altri due se il contratto si rompe la RAI deve dare 7 milioni a Fazio secondo quanto previsto appunto dal contratto tutti noi che vogliamo il rispetto dei contratti riguardo alla TAV, tutti noi che siamo d'accordo con Tria sul fatto che la TAV si debba fare ricordiamoci che il principio secondo il quale i contratti devono essere rispettati vale anche e non solo per le cose che ci piacciono la TAV ma anche per le cose che magari piacciono di meno, vedete qualcuno di voi Fazio è caro come la TAV ed è inutile qualcuno che ce l'ha con la TAV e con Fazio e lì la cosa va insieme, cioè parte dei grillozzi su questo vanno d'accordo ma secondo me dal punto di vista di un liberale serio il contratto si rispetta sulla TAV oltre a essere molto utile per quanto ci riguarda ma questo è un addendo e il contratto si deve rispettare anche per Fazio anche se, e questo è un addendo, Fazio può non piacervi perché se no in un mondo in cui i contratti non si rispettano è un mondo in cui non si tutela il diritto, non si tutelano i diritti di proprietà non si tutela la convivenza civile o no? Secondo me, sì, adesso Fazio è un corrotto comunista, potete scrivere quello che vi pare ma il punto è che c'è un contratto che abbiamo firmato. Allora, seconda notizia di giornata, ovviamente a parte quella dei contratti di Tria la seconda notizia di giornata è molto semplice da individuare, cioè quella del centrodestra che vince in Sardegna ed è inequivocabile, il suo candidato prende il 50% poco meno, la sinistra gode di aver perso, in questo Salvini c'è ragione me l'ha detto anche a me ieri, insomma prende il 30%, 15 punti meno dopo aver governato quella regione essere contenta perché il primo partito col 13 o 14% insomma è un godimento veramente ridicolo lì la cosa fondamentale è che questo centrodestra, secondo le interviste fatte da Salvini, detto anche a me ieri sera è un centrodestra che non va lontano perché va nelle regioni ma non va nello Stato e in più si crea un problema, come oggi si rendono tutti i giornali, sul Movimento 5 Stelle il Corriere della Sera tira la caos 5 Stelle, Repubblica processo Di Maio, il leader di 5 Stelle nel retroscena c'è, mi sembra sul Corriere si dica come Grillo si sia stufato di Di Maio Francesco Del Vigo oggi è molto interessante perché in effetti ci fa ragionare su un'altra cosa il vice direttore del giornale ci dice in un colonnino di spalla del giornale ci dice ma scusatemi questo non era il fenomeno, non c'erate venduto come l'uomo che toccava tra l'altro, apro una parentesi e chiuso la parentesi, l'altro fenomeno non si è sentito cioè di Battista in questa fase allora il fenomeno di Maio è diventato nel giro di pochissimo il capro espiatorio o come dice Del Vigo sfottendo o comunque citando, come si chiama, citando Sgarbi il Di Maio è diventato una caprea espiatoria intanto vi segnalo come sempre la professionista diciamo della contestazione all'interno del Movimento 5 Stelle d'altronde è nel loro DNA avere questo tipo di professionisti che contestano la Tav contestano Fazio, contestano Porro, contestano la Rai, contestano tutto, contestano la TAP per poi non rendersi conto che quella roba si fa, vero, senatrice Lezzi bene, insomma, la contestatrice di tutto anche della sua casa è la senatrice Fattori che dice una cosa che però è abbastanza insomma comprensibile dice Di Maio non può fare tutto, non può fare il leader del partito e nel frattempo fare anche vice ministro e vice presidente, vice premier e ministro dello sviluppo economico quante cose può fare questo ragazzo insieme? Almeno una di queste le deve mollare oggi sul Russo si verificherà la nuova struttura che si darà al Movimento 5 Stelle staremo a vedere, domani ne parleranno ovviamente tutti i giornali come sarà organizzata secondo l'istituto Cattaneo, oggi scrive in un colonnino di 20 righe quello che è successo in Sardegna è molto semplice, ha perso 300 mila voti il Movimento 5 Stelle e parte di questi voti, circa metà, sono andati nell'astensione cioè gente che votava 5 Stelle e non è andata più a votare e un'altra metà delusi dalla condotta di governo del Movimento 5 Stelle questo dice l'istituto Cattaneo De Marchis, Goffredo De Marchis oggi sulla Repubblica fa notare un'altra cosa, cioè di quanto ci costano gli exit poll a noi contribuenti in quanto contribuenti appunti del canone Rai secondo Goffredo De Marchis sono 5 milioni di spesi per fare degli exit poll che non hanno nessun valore, secondo quello che evidentemente è successo l'altra sera in cui si diceva che centrodestra e centrosinistra erano in un testa a testa invece questo non è avvenuto e per un giorno abbiamo commentato una cosa che non era nei fatti va la pena, dice Goffredo De Marchis, spendere tutti questi soldi per dare informazioni completamente fuorvianti ma insomma ognuno può discutere della vicenda Travaglio oggi di che si occupa? di Di Maio, della crisi del partito, del voto di 5 Stelle, dei 300 mila euro della condanna anche di Alemanno in primo grado alla sentenza no, oggi il nemico di Travaglio è donna e lui questo fa anche ridere perché la moglie di Agnelli si chiama donna Marella perché la moglie di Napolitano si chiama donna Clio e le altre apre la parentia e si dice sono tutte stronze a cui non gli si dà l'appellativo donna no, un po' di rispetto forse per delle signori importanti si può avere caro Travaglio le tricoteuse, come dice Benetria, che facevano la maglia vicino alla ghigliottina sono esattamente la descrizione di quello che tu sei si può dire donna, no, non è una cosa insultante, non è una cosa che ti rende diverso esiste un rispetto verso qualcuno Travaglio oggi fa una pagina intera per raccontarci quanto sono ridicoli i giornali che celebrano una signora che di rilevante ha fatto una sola cosa e cioè sposarsi l'avvocato Agnelli insomma sì, viviamo in questo mondo in cui siamo tutti uguali nessuna storia straordinaria la signora Marella Agnelli ripresa e ritratta da Andy Warhol è come mia sorella insomma tutti uguali, tutti normali e quindi oggi invece di parlare della politica eccetera ci parliamo del fatto che i giornali abbiano dedicato un po' di spazio a una persona che è morta e che comunque è stata uno dei simboli dell'Italia insieme all'avvocato Agnelli lui si stupisce ma sarà sicuramente applaudito dalle tricoteuse dei suoi lettori che non sono tutti così ovviamente mi immagino nel frattempo altre due notizie che secondo me sono interessanti i mercati stanno girando bene almeno così dice il Sole 24 Ore un giornale che non può essere certo definito filo governativo dice che ieri il dato sui mercati, sullo spread e sulle banche è stata di una ripresa sostanzialmente molto ottimista ieri il Sole 24 Ore nonostante il suo azionista e la Confindustria non siano un grande amante di questo governo ieri il Sole 24 Ore mi è sembrato nei servizi di oggi dare un senso di qualche cosa che sarebbe cambiato sui mercati Amazon ne parlano poco oggi forse il Corriere della Sera è quello che ne parla di più sciopero a Milano dei loro trasportatori e devo dire la verità sapete come la penso io sugli scioperi cioè sono uno di quelli che ha un pregiudizio negativo sugli scioperi perché in effetti negli ultimi anni sono stati utilizzati in maniera assurda politica e non diciamo vera per i lavoratori ma questo sciopero nei confronti di Amazon invece mi sembra sapete un po' come la penso io in genere sono non certo appunto uno scioperato beh insomma in effetti quello che denunciano i trasportatori franchigie per cui con un graffio vanno a pagare un sacco di soldi il fatto che i tempi siano dettati da un algoritmo e che non abbiano soprattutto perché li vedo questi trasportatori che mazzo si fanno non mi sembrano degli impiegati nulla facenti io vi dico la verità a pelle a naso tra Amazon di cui non me ne frega niente sia la grande multinazione potrebbe essere anche la piccola multinazione potrebbe essere anche l'azienda del lattaio vicino casa tua ma tra questi signori che trasportano tutti i giorni su Amazon si fanno un mazzo così sono efficientissimi ti chiamano al telefono quando non ti trovano e si lamentano per cifre ovviamente non indecorose di stipendio ma neanche da miliardari insomma mi sembra di capire che se arrivano all'esasperazione di uno sciopero i trasportatori di Amazon oggi a Milano qualche piccolo ragionamento sul loro modello di business in Italia forse ce lo dovremmo porre non la penso come Di Maio ma la penso sicuramente come il mio amico Riccardo Ruggeri per cui qualche volta il CEO capitalismo deve stare un pochino attento a come si comporta perché non siamo bestie va bene? non siamo bestie detto questo andiamo sull'ultima questione che più mi diverte della giornata su cui varrebbe la pena anche sul mio sito forse fare un approfondimento più tardi di fatti qua dice Flavio è Amazon il problema non i trasportatori stavo cercando di dire questo e l'ultima cosa che mi riguarda è gli Oscar ma non ne abbiamo parlato a sufficienza allora gli Oscar come ormai avviene da qualche anno fanno vincere dei film che non fanno ascolti che non vengono granché visti perché gli Oscar sono il trionfo del politicamente corretto oggi Financo Merenghetti sul Corriere della Sera dice che gli Oscar sono stati affidati a un manuale Cencelli che era quello per cui divideva i seggi e le poltrone da spartirsi in Italia attraverso l'attribuzione partitica e la stessa cosa è avvenuta ieri te ne do un pizzichino alle donne a un pizzichino alle donne LGBT un pizzichino ai gay un pizzichino agli afroamericani cioè si tengono insieme le minorities perché si doveva dare il senso di un festival che in una cosa soltanto non è disuguale ma è unito nell'essere antitrampiano cioè il festival contro il razzismo il festival per cui tu devi essere un pianista gay che ama un italo americano che forse è stato frustato da una rumena che forse era una figlia illegittima di uno jugoslavo che era arrivato ebreo in America che si era sposato mio cugino che nel frattempo era stato infiburato queste sono le storie che devono piacere agli Oscar e tutto questo con Spike Lee che deve entrare sul ce lo spiegano oggi mi sembra Sarcina sul Corriere della Sera arriva Spike Lee che è nero, africano, arrabbiato perché poi gli sceneggiatori del film dei neri afroamericani gay beh, erano bianchi allora questo è diventato gli Oscar io ho chiamato i Nobel gli Oscar una cagata pazzesca ma sono felicissimo diventeranno la corazzata Potionkin l'aveva capito tutto quel genio di villaggio prima erano russi quando gli americani diventano come i russi nel fare questa cagata degli Oscar se li vedessero loro questi quattro stronzi che si vestono da miliardari e che vogliono essere perfetti con tutti gli anelli qua con scritto peace, love ma vivete in un posto normale ma cercate di capire che in questa maniera voi la diversità la ampliate non la diminuite in cui siete ridicoli in cui l'unica idea che avete è quella di essere antitrampiani per sentirvi nei vostri circoletti a bel air contenti mentre vi sorseggiate un Martini fatto come James Bond sono radical chic non si può più usare questa parola sono politicamente corretti non si può più usare questa parola sono gli hollywoodiani ecco mettiamola così ieri prendi quel film quella roba là di hollywood di cui ieri anche crepe che bello il segno della diversità fatta da hollywood con un piccolo problema che la diversità non se la vede nessuno ve la vedete tra di voi va bene? guardatevela tra di voi io continuo a pensare che Clint Eastwood sia il nostro mito l'ha scritto Giovanni Sallusti sul nostro sito nicolaporro.it leggetevelo e vi metterete tutti d'accordo anche l'aspesi gli oscari nel buio dell'america ma quale cazzo di buio è l'america aspesi ma qual è il buio dell'america? un paese che non ha disoccupazione un paese in cui cresce il 4% all'anno questo è il buio dell'america no questo è il buio dell'america io voglio capire questo questo è il buio dell'america il secondo l'aspesi il buio dell'america e sono 4 miliardari che non vogliono credere che gli americani vogliono un presidente che si occupi degli affari d'oro questo è il buio dell'america vabbè Borgonovo lo tratta da per suo giustamente con un po' troppe citazioni su che ne so Fukushima Fukuyama sapete quello che è la fine della storia sulla verità direi che per oggi è tutto ci diamo appuntamento domani con la zuppa di porro e più tardi Palliwood bravo Pier Giorgio e e ci vediamo più tardi sul sito nicolaporro.it ciao